Io mi chiamo Giuseppe e benvenuti sul mio canale Oggi vi farò vedere come scaricare Minecraft la mod Aspettate Minecraft la mod Andate prima su Google E cercate più mod Aspettate Questa Google Google e cercate più mod Eppi mod Dopo Vi spunta Questo qua il primo E poi c'è scritto Download Voi premate lì E poi Vi scaricherà Eppi mod E dopo lo aprite E poi vi potete scaricare quello che volete Le mod di tutte cose Ora io sto installando la mod di Minecraft Quindi scriviamo Mi Nei Craft Minecraft Minecraft Il primo E vi spunta Questo qua il primo Scaricate Continuo Installazione E poi Si scaricherà questo Ragazzi come avete visto Si è installato Minecraft Ehm Ora Minecraft si sta aprendo Ragazzi Si è installato Come avete visto Ehm Ehm Visto Ehm Ora Mi sono scaricato In Minecraft La mod E come Minecraft quello vero Però non è a pagamento Se voi installate Eppi mod E poi Ehm Cercate su Eppi mod Minecraft E poi Potete giocare con Minecraft Come avete visto Come avete visto Per ora Ho tante cose Guardate ragazzi Però dovete fare Creativa Però Sto facendo Per farvi vedere Però Non faccio niente Faccio così Per fare cose a mozzo Per farvi vedere Che è Minecraft Come potete vedere Sono in un mondo Tutto quadrato Questo qua E' Minecraft Ti visto Qua c'è una mucca Mucca Buongiorno Ehm Va bene Ehm Lasciate un mi piace E iscrivetevi al mio canale Che io La prossima volta Faremo un nuovo video Di Minecraft Al prossimo video ragazzi Ciao